no dritto devi tenerlo o dritto o proprio dritto o perpendicolare si anche così però la cosa migliore è sempre che spetta o così praticamente o così sempre perpendicolare e se gli dai l'immagine come vuoi te lo puoi anche alzare tra le due volte allora ragazzi oggi abbiamo fatto l'unboxing del nova v3 e niente le caratteristiche sono ovviamente differenti dal v2 è stato alleggerito a un profilo completamente diverso è un pochino più di grasso abbiamo potuto sentire che tira un pochino di più però mi è stato detto che dovrebbe anche tenere molto più tempo hanno tolto più tutti gli sforzi hanno fatto delle cuciture anche doppie quindi per alleggerirlo i tip sono più stretti la pressione è cambiata da 6 psi siamo andati praticamente 8 psi e hanno messo praticamente questa maniglia più lunga l'altra un pochino più corta comunque sempre per avere la sensazione di ultramaneggevolezza niente pressioni direi ultrapositive hanno cambiato praticamente la posizione delle finestre niente risulta veramente leggero performante due tre nodi quanto ci sarà da niente è poco molto poco guardate come vola veramente ragazzi sto parlando di due tre nodi guardate come vola è veramente impressionante la manovrabilità è eccezionale è nulla ora stiamo aspettando anzi Danilo ci arriverà tra pochi giorni le tavole gonfiabili per la didattica che hanno anche poten essere utilizzate nel dislocamento con delle pinne speciali e poi applicare poi che sono bellissime e li parleremo tra qualche giorno e poi ovviamente i mod che sono wing personali per altre pressioni niente oggi abbiamo fatto un unboxing veloce del poi ne arriverà abbiamo altre misure ovviamente però abbiamo 5 metri 4 e 2 4 e 2 quando ci saranno delle bellissime giornate di vento che dire veramente come sempre direi un lavoro ad altissimo livello sublime questi sono i wing che comunque noi andremo utilizzare per la didattica giusto Danilo quindi tra performanti sono dei free ride che permettono comunque la facilità che andranno adappinati ovviamente alle nostre tavole gonfiabili il SIG air quindi siamo qua a breve meteo permettendo per ovviamente oggi dove siamo siamo qui al nostro spot primaverile funziona benissimo col maestrale oggi scirocco dove abbiamo l'acqua più piatta che si sia mai vista e ovviamente con le prossime maestralate comunque saremo operativi in questa bellissima laguna vuol dire qualcosa da l'italiana che vuoi dire voi non hai già detto tutto che ho detto tutto io vi aspettiamo